Oggi è Internet Festival, parlavamo di tanti tipi di intelligenza, lei si è occupato dell'intelligenza connettiva, cosa si intende? E' la natura dell'intelligenza, la parola latina era interlegare, vuol dire mettere insieme due cose, qualche sia, e questo è l'anima dell'intelligenza, conessere. L'intelligenza connettiva, quando l'ho inventato, perché nel 1995 ho scritto un libro su questo, era per far capire che non si tratta generalmente di intelligenza di tutto, ma che le persone lavorano insieme, si connessano per trovare, fare, realizzare. Poi arriva la rete e la rete raffina molto questo, lo mette in posti molto diversi di configurazione, di connessione, dal blog fino a blockchain, per andare tutta la storia, attraverso i social media e tutti quanti, Twitter non è la stessa cosa di Facebook, l'intelligenza è anche nel modo di fare le connessioni, però è superato, il concetto è superato, mi dispiace ma è superato, è superato perché? Perché oggi non si può fare a meno di connessere l'intelligenza all'intelligenza artificiale, siamo adesso completamente prigionieri dell'intelligenza artificiale, è nell'aria, tutti i dati che sono qualche parte, c'è un'invisibilità, anche una accessibilità è fenomenale oggi di data che fanno per noi decisioni che non prendiamo noi. Io temo anche che l'intelligenza diviene una datacrazia, nel senso che gli algoritmi si mettono in posto per organizzare le decisioni, lo fanno già per i giudici, avvocati, lo fanno per i medici, lo fanno per la gente che fa finanzia, vuol dire che la connettività globalizzata crea una sorta di esternalizzazione del nostro contenuto, adesso è qua, e adesso ti promettono di fare questi con ancora di più di intelligenza artificiale, ti promettono anche di creare relazione con questo, ma relazione personale, forse anche, diceva Harari, già le macchine ti conoscono molto meglio di te, che tu ti conosci te stesso.